I lavori di ristrutturazione e potenziamento del pronto soccorso ad Agrigento e altre opere prossime a Sciacca. L'intervista alla manager Salvatore Lucio Ficarra. Il servizio. In Sicilia vi è una grave carenza di medici nei pronto soccorso degli ospedali. La percentuale, il 57% della dotazione di legge e la condizione del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento è ancora più grave. Infatti, secondo il Simeu, che è la società italiana di medicina di emergenza e urgenza, al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento lavora solo un terzo dei medici ritenuti necessari. E lo stesso Simeu spiega, nonostante tale carenza di medici, diversi bandi per contratti a tempo determinato sono stati disertati dai tanti colleghi precari che con tutta evidenza considerano l'offerta di incarico per nulla appetibile a causa dei carichi di lavoro massacranti e dell'esposizione a livelli di rischio clinico e di conseguente contenzioso medico legale davvero elevati che non possono non manifestarsi in pronto soccorso con organici talmente sottodimensionati. E vi sono problemi anche nella provincia di Agrigento con 7 medici sui 16 a Licata, 5 su 14 a Canicati, 9 su 15 a Sciacca e 5 su 6 a Ribera. Nel frattempo ad Agrigento sono stati aggiudicati dall'ufficio gare dell'azienda sanitaria provinciale i lavori di manutenzione e ristrutturazione del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio delle opere per un valore d'appalto di circa 530 mila euro si occupa una impresa di Gela gli interventi si protrarranno secondo il bando 240 giorni dunque 8 mesi il direttore dell'azienda sanitaria Salvatore Lucio Ficarra afferma durante i lavori ridurremo al minimo i disagi per l'utenza compatibilmente con lo svolgimento delle opere che riteniamo indispensabili e non rinviabili alla fine di superare tutte quelle questioni di tipo gestionale che sono attualmente frutto dell'enorme quantità di utenza servita dalla struttura e pertanto lavori in corso al pronto soccorso ad Agrigento e accorgimenti per alleviare i disagi e poi prossimi lavori di ristrutturazione anche all'ospedale Giovanni Paolo II a Sciacca Sì, noi intanto ci scusiamo con tutti gli utenti e anche con il personale in servizio al pronto soccorso per i tanti disagi che sono costretti a subire ma intanto come si dice non si può fare la frittata senza rompere le uova abbiamo trovato un pronto soccorso dal punto di vista strutturale e deficitario quindi abbiamo dovuto reperire le risorse, circa 700 mila euro in compartecipazione con la regione per ristrutturare l'intero pronto soccorso il progetto è stato fatto dai nostri dipendenti quindi questo ci ha consentito di risparmiare sull'ione di progettazione, direzione di lavori e quant'altro e soprattutto i dipendenti conoscevano molto bene le difficoltà a cui vanno incontro sia gli utenti sia gli operatori per cui i lavori sono in fase avanzata dovevano essere consegnati da qua a un mese però tutta una serie di imprevisti che sono state rilevate durante le opere ci hanno indotto a consentire una breve proroga di circa un paio di mesi alla ditta perché mentre ci siamo sistemiamo quello che poi diventerebbe sostanzialmente irreparabile e non più sistemabile per cui daremo alla città entro gennaio massimo febbraio credo uno dei pronto soccorsi più moderni dell'intera regione Sicilia se non più moderno la stessa cosa devo dire a Licata entro la prossima settimana la stessa somma è stata investita sul pronto soccorso di Licata per cui stiamo attendendo semplicemente il collaudo e la consegna da parte della ditta dei locali di pronto soccorso rimarrà solo da sistemare Sciac con un progetto successivo mentre Canigatti sono stati fatti dei lavori richiesti dall'assessorato a seguito di un'ispezione di circa due anni fa che non erano mai stati fatti e li abbiamo messi in opera con delle modifiche strutturali importanti è ovvio che però si deve sempre tenere conto della struttura di base dell'ospedale di Canigatti che è sempre complicata da modificare in particolare su Sciacca avete commissionato il progetto che si riferisce all'intera ristrutturazione su Sciacca un progetto molto 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 complesso perché c'erano pavimenti di velti c'era il problema delle zanzare c'erano una miriade di problemi probabilmente derivanti da una progettazione che non aveva tenuto conto di una serie di variabili per esempio il problema delle zanzare deriva dal fatto che l'acqua dei piazzali anziché scaricare verso l'esterno scarica verso le fondamenta e quindi favorisce il proliferare di migliaia e migliaia di zanzare per cui tutti gli accorgimenti che sono stati fatti fino ad ora erano semplicemente dei palliativi insomma l'investimento su Sciacca è di circa 4 milioni di euro un investimento molto importante si è perso un po' di tempo perché con la nuova legge sugli appalti ora i progetti devono essere esecutivi e quindi i progettisti hanno modificato il progetto ora il comune di Sciacca in questi giorni ha dato anche l'assenso così come pure il genio civile dobbiamo fare solo un paio di modifiche a cui già stanno lavorando gli uffici dopodichè entro fine anno speriamo di trasmettere tutti gli atti all'Urega per indire la gara grazie grazie grazie